Buongiorno, innanzitutto voglio ringraziare moltissimo il collega Primo Ministro Ali Zidane per la sua presenza qui oggi e per il contributo estremamente concreto, positivo dell'incontro che abbiamo avuto oggi adesso farò stato di tutte le conseguenze e di tutti gli accordi che abbiamo preso durante l'incontro di oggi come sapete ci siamo incontrati la prima volta al G8, all'Okern, è stato un incontro molto positivo, molto importante in quell'incontro i principali paesi europei e gli Stati Uniti hanno stabilito insieme di chiedere all'Italia un impegno particolare di rapporto con il governo libico questo impegno oggi trova le prime conseguenze importanti come lo vedete al taglio di rivista i riniti e lo che ha la rivista come si abbiamo visto prima prima la questa è andata in una panidla nel quadro del mezzo l'Okern lo ha una ghana la quale e il Mozente lo ha di questo in questo momento le europee e il europee lo ha due gli europei e le università emozionali con la istrae l'Italia la nostra l'economia l'epsia Questo obiettivo è la prima cosa di questo obiettivo. Gli strumenti per il controllo dei confini possano trovare da parte italiana un aiuto, un sostegno e che si possa rapidamente finalizzare questa collaborazione con risultati molto concreti. Questo ovviamente perché la stabilizzazione delle istituzioni in Libia interessa l'Italia in primo luogo e interessa tutto il Mediterraneo. Questo è necessario per controllare naturalmente i flussi di immigrati clandestini e per far sì che questo controllo di flusso di immigrati clandestini possa avvenire con il pieno rispetto delle regole internazionali e naturalmente il rispetto delle regole legate ai diritti dell'uomo. L'Italia e Libia poi sono partner strategici dal punto di vista economico. E noi vogliamo che questa partnership sia una partnership che si rilancia, che trova dei risultati importanti. Abbiamo insieme incontrato l'amministratore delegato dell'ENI, Paolo Scaroni. Il tema dell'energia è un tema fondamentale per i rapporti tra Italia e Libia e quindi una buona cooperazione porterà sicuramente a risultati molto importanti. In questo caso il risultato dell'energia interessa tra i luoghi e Libia e Italia è molto importante. E noi vogliamo che questo risultato è che si rilancia un'efficienza per la risultata tra i luoghi. Ovviamente vi rinforziamo che il tema di attenzione è molto importante per questo. Il giorno vi ringraziamo con il Presidente dell'Ezario di l'Odwa e l'Odwa di l'Ezario di l'Eni, Scarroni, e vi parliamo molto di un tema di attenzione tra i luoghi. Abbiamo quindi deciso che entro la fine dell'anno si svolgerà a Roma la conferenza sull'assistenza alla Libia insieme ai principali Paesi protagonisti e i principali Paesi sia quelli che insieme a noi al G8 sono stati impegnati nella riunione che ha portato poi all'incontro di oggi. Quindi la conferenza di Roma sarà un appuntamento importante entro la fine dell'anno e questo appuntamento lo metteremo a punto insieme. Per quanto riguarda poi il training delle forze armate di polizia, libiche, l'Italia si è impegnata a un training che riguardi 5.000 unità che mettono insieme varie parti, ovviamente parliamo della guardia di frontiera, della polizia scientifica, delle forze di pubblica sicurezza, citavo prima appunto il tema del controllo delle frontiere e nel nostro incontro abbiamo parlato ovviamente del controllo delle frontiere che non riguarda soltanto la costa ma riguarda anche le frontiere del sud, in particolare la frontiera con il Chad che sappiamo essere la frontiera forse più complessa, più difficile da gestire. Per noi il controllo delle frontiere e la gestione dei flussi di immigrati clandestini sono grandissima priorità ed è prioritaria che la nostra cooperazione trovi dei risultati positivi e riesca quindi a gestire questo fenomeno oggi purtroppo incontrollato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci prendiamo e ci siamo presi. Per tutte queste cose lunedì prossimo, lunedì 8 luglio, si svolgerà a Tripoli un avione tecnica sotto leggi dell'Italia, della Germania, del Regno Unito, della Francia e degli Stati Uniti. con la missione delle Stati Uniti come concreto seguito del giorno 8. Grazie a tutti. Come ulteriore segno positivo dei nostri colloqui di amicizia tra i nostri Paesi, tra i nostri governi, posso che annunciare di aver accettato l'invito che il primo ministro Zaidan mi ha rivolto di andare in Libia, di andare a Tripoli e quindi sarò prossimamente a Tripoli per verificare passo passo l'attuazione degli accordi e degli impegni che oggi abbiamo deciso di assumerci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E infine voglio aggiungere che io personalmente rimasi molto impressionato nella nostra altra occasione d'incontro al G8 a Locarn dal primo ministro Zaidan, dalla sua concretezza, dalla sua capacità di gestire lì una riunione non semplice. Grazie a tutti. 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 L'Italia è il primo partner economico della Libia, il primo partner commerciale della Libia. E l'Italia rappresenta uno dei paesi con i quali più la Libia ha avuto contatti attraverso la sua storia sul versante politico e sul versante commerciale e economico? Grazie a tutti. 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 Abbiamo concordato anche l'attuazione della cooperazione sicurezza in tutti i settori. Grazie a tutti. 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 Abbiamo toccato altri argomenti nella cooperazione. Grazie a tutti. 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 Buonasera. Sono Enrica Costini di Reignos 24. al Primo Ministro Libico. Volevo anche io chiedere, il collega mi ha bruciato un po' la domanda, però allora insisto un po', è vero stiamo parlando del popolo egiziano, ma il popolo egiziano aveva già scelto un presidente e quindi volevo capire su questo, visto che in questo momento al potere ci sono i militari, qual è il suo sentimento. e al presidente del Consiglio, lo riporto un po' in Italia, perché abbiamo poche occasioni di farle le domande e quindi volevo sapere rispetto al vertice di questa mattina e visto anche questa flessibilità arrivata ieri dall'Europa, ma che non è una vera e propria golden rule, quali saranno, cosa farà davvero sull'IVA e sull'IMU e anche sui debiti della pubblica amministrazione, visto che il ministro Zanonato ha detto comunque andiamo a scelta. grazie 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 Sì, è un po' di più o darriba alla l'accarat o accadde che l'Italia ti ha rapporto al messaggio la parola di lei lei guarda la questione dal punto di vista della giornalista ma io lo guardo dal punto di vista di uno statista di responsabile di un governo un uomo di governo l'Egitto è un paese sobrano l'Egitto è un paese vicino Libia è un paese che non fa in gerenza negli affari interni degli altri paesi e accetta quanto ha scelto il popolo egiziano e se io ho chiesto di un uomo di un uomo e non ho capito se lei mi avesse fatto questa domanda da un'altra posizione avrei forse risposto ma ora posso rispondere soltanto come premier della Libia per quanto riguarda le vicende interne italiane credo che possiamo fare credo che possiamo risparmiare al ministro libico con i nostri rivolgimenti interni di politica interna posso dire in modo molto rapido che la riunione di oggi è stata una riunione della maggioranza molto positiva c'è un buon rilancio del governo c'è un buon rilancio del programma di governo soprattutto c'è quest'idea di una road map che vada verso il completamento di 18 mesi di lavoro 18 mesi di lavoro attraverso un'idea l'idea di fondo è quella di lavorare su quattro fasi quattro obiettivi da adesso ai prossimi 18 mesi il primo obiettivo quello più difficile oggi oggi abbiamo il tema naturalmente della soluzione sull'IVA sull'IMU sulle cose più complicate perché avvengono con il bilancio 2013 che è ancora rigido non godo di flessibilità quindi la copertura di questi interventi va tutta trovata dentro il bilancio e non è semplice in secondo luogo in autunno la preparazione della legge di stabilità legge di stabilità che potrà godere dei primi elementi di flessibilità che la decisione di ieri dell'Unione Europea ci concede e che sarà tutta centrata sullo sviluppo sul rilancio economico sull'agenda digitale sulle infrastrutture sulla capacità di ridurre le tasse in particolare sul lavoro per far ripartire il Paese il terzo capitolo sarà quello della preparazione del semestre di presidenza europea dell'Italia semestre di presidenza europea dell'Italia che avviene e avverrà come sapete nel secondo semestre dell'anno prossimo prepareremo un programma vero e proprio del semestre che sarà un programma con il quale siamo sicuri di aiutare il rilancio dell'Europa verso più Europa verso più integrazione europea e di farlo facendo bene all'Italia che ha bisogno di un'Europa più forte e poi il quarto obiettivo dentro questi 18 mesi il completamento del percorso di riforme costituzionali che porti alla riduzione del numero dei parlamentari al nuovo sistema costituzionale con la fine del bicameralismo paritario e arrivare naturalmente alla nuova legge elettorale questi 18 mesi sono l'obiettivo che c'eravamo dati e io sono convinto che saranno 18 mesi che faranno ripartire l'economia italiana e consentiranno quella riforma della politica che come sapete è sempre stato l'obiettivo principale del mio governo con la riduzione dei costi della politica e la capacità quindi del sistema di essere più forte questi obiettivi dobbiamo realizzarli dentro questi obiettivi ovviamente tutto ciò che aiuta il rilancio economico a partire dal rafforzamento dei pagamenti dei crediti della pubblica amministrazione delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione sarà parte del nostro progetto del nostro programma quindi una buona roadmap un buon programma di rilancio dell'azione di governo e soprattutto un percorso di 18 mesi che ha visto oggi e vede oggi tutte le forze politiche che sostengono il governo molto convinte e molto impegnate io non avevo dubbi ero e sono ottimista a maggior ragione dopo la decisione importante dell'Unione Europea di ieri che ha confermato che l'Italia è sulla strada giusta e quindi siccome siamo sulla strada giusta dobbiamo camminare ancora più speditamente ultima domanda la domanda dal premier ci saranno visite prossimo futuro di delegazioni italiane in Libia anche per seguire tutte le cose importanti di cui avete parlato oggi gli accordi nel settore della cooperazione e della sicurezza senza dubbi senza dubbio vi saranno molte visite come ha detto sua eccellenza il premier let a poc'anzi ci sarà la prima visita della delegazione importante che comprende diversi paesi dell'Unione all'Unione europea a Tripoli già l'otto del mese di luglio questo mese noi abbiamo deciso di dare un aspetto settoriale alla cooperazione e quindi ci saranno molti incontri tra il ministro dell'economia ministro dell'industria ministro dell'agricoltura con i loro omologhi italiani e quindi questa cooperazione settoriale avverrà con contatti tra i dicasteri interessati per dare attuazione all'applicazione secondo questo metodo i nostri amici europei si sono lamentati della lentezza dell'attuazione degli accordi da parte libica pertanto nostra intenzione è intensificare le visite intensificare i contatti per un controllo continuo dell'attuazione quindi voglio ringraziare moltissimo ancora il presidente Zeydan credo che le sue parole in particolare le sue parole sull'impegno libico sul tema dell'immigrazione siano parole molto importanti per l'Italia ma soprattutto voglio aggiungere una ferma parola da parte italiana sul fatto che è necessario che in Libia cessi qualunque violenza in particolare qualunque atto di violenza nei confronti dei civili questa è la precondizione perché tutto il lavoro positivo di cooperazione che abbiamo messo a punto possa effettivamente svilupparsi e dare risultati positivi è l'amnata che l'amnata che che si l'amnata di l'amnata alle le attraverso l'amnata l'amnata a l'amnata 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 Grazie. 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 Grazie.